bene siamo qua con Michele che ci ha stupito perché giravamo qua per la zona abbiamo visto una persona sdraiata ho detto boh strano chissà cosa sta facendo Michele raccontaci un attimo di questa cosa straordinaria questo è un apparecchio che permette di fare molte cose ma di ascoltare la musica che sono all'interno del corpo quindi permette di percepire tutte quelle cose quelle informazioni che le orecchie non sono in grado di percepire il movimento del suono frequenze subsoniche onde cerebrali e molta dell'emotività che viene espressa dai musicisti però non si riesce a trasmettere con uno steno normale quindi in caso uno che ha paura ad andare dal dentista se usa questo strumento l'ora è anche già utilizzato da istituti terapeutici riabilitativi per vari come si possono usare frequenze secondo i principi della fisica quantistica anche a livello antidolorifico per andare a interagire con tessuti organi stati mentali e così via ok Michele grazie grazie grazie